Non hanno fatto l'Accademia di Belle Arti, non hanno seguito un corso di disegno e non hanno mai toccato uno scalpello. Ma cosa conta quando si può avere una motosega? Affilate le lame e accendete i motori. Arrivano Mark, Ryan e una squadra pronta a lavorare ai minimi dettagli, con il massimo della potenza. Pazzi per il legno, le sculture, ogni giovedì alle 21. Solo su Explora, canale 415.